la polizia urbana non mi rispondono al telefono formate le macchine formate le macchine ma è normale che prendo maledà non si sa niente ma è un po' è un po' di fatto non ti ha fatto non vengono non vengono se vengono adesso adesso è un po' di questo Sì! 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 Sì!